Purtroppo abbiamo una prefettura che è molto lenta riguardo al comune di Pagani, questo lo dico in maniera molto chiara, purtroppo qui viviamo in uno stato a parte, Pagani è uno stato a parte, dove un consuntivo... Non sono dunque passate inosservate le durissime parole dell'ex sindaco di Pagani, Salvatore Bottone, nei confronti di prefettura e degli attuali amministratori di maggioranza del comune. Pagani sembra essere una città di uno stato a parte, aveva quindi detto ai nostri microfoni Bottone, rincarando poi la dose, parlando di prefettura lenta nel prendere decisioni di essere pronto a discutere del nuovo consuntivo in consiglio comunale, ma sottolineando che la maggioranza di governo della città di Sant'Alfonso è più votata a far feste e balletti che non ad amministrare lente. Affermazioni veramente al vetriolo. Il sindaco facente funzioni, Anna Rosa Sessa, ha commentato solo una parte di queste esternazioni. Bottone non sa di cosa parla o preferisce dimenticare il disavanzo di circa 20 milioni di euro lasciato. Mente, sapendo dimentire, continua ancora Anna Rosa Sessa, anche se conferma di apprendere con favore, la disponibilità di Bottone a discutere degli atti relativi al rendiconto di gestione 2018, anche perché, dice, il suo contributo in termini di spiegazioni e chiarimenti sarà determinante per dirimere le forti perplessità riferite alla legittimità dei dati e dei conti di bilancio ed economico patrimoniale, che il sindaco e la giunta nutre li condurranno esclusivamente a prendere atto delle risultanze del rendiconto di gestione 2018. Intanto il componente della maggioranza, Massimo Donofrio, afferma che il conto consuntivo sarà approvato al più presto in giunta per poi passare al baglio del Consiglio Comunale. Donofrio smonta anche le recenti polemiche in relazione alla lettera inviata dalla segretaria generale del Comune al sindaco facente funzioni, Anna Rosa Sessa, e proprio alla dottoressa Perongini, infatti, è stato affidato il compito di risolvere la grana consuntivo. Ma in verità noi abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione due gravissimi problemi. Uno di natura non contabile finanziaria, tanto grave che siamo in dissesto. E questo è dovuto chiaramente alle scelte scelerate della precedente amministrazione che ha approvato dei bilanci anche falsi, lo abbiamo denunciato e poi saranno gli organi competenti a decidere. E poi una pianta organica carente e demotivata che stiamo cercando in qualche modo di ricomporre e ricostruire con una nuova pianta organica. Mancava il responsabile finanziario, non c'erano figure adeguate all'interno della struttura tanto che ci siamo dovuti avvalere della disponibilità della segretaria comunale che comunque con questa scelta di accettare anche questi incarichi in qualche modo cancella anche delle banalissime polemiche. Quindi adesso sarà lei. Banali proprio non erano, eh? Non erano banali ma sono state chiarite con i fatti e appartiene al normale dialettica anche in questo caso amministrativa e quindi lei si assume la responsabilità di redigere insieme ai tecnici insomma il consuntivo. Meno male che non è arrivata la diffusa dal prefetto. Ma noi siamo assolutamente allineati diciamo alle loro richieste, insomma ci stiamo accingendo in tempi stretti ad approvare in giunta questo consuntivo. Non è stato fatto solo perché non c'era un dirigente, ha dato lei la disponibilità pertanto a breve andremo anche in giunta e poi in consiglio ad approvare il consuntivo.